A proposito di prelievo rifiuti, sono le ore 14 e 49 minuti, siamo in via Dierza, ci richiamo in piazza Vittorio Emanuele. Ed eccoci giunti in piazza, guardate, c'è un deposito proprio qui, accanto alla piazza, a due passi dai cittadini che sono seduti sulle comode panchine di fronte alla bella fruttà zampillante. Un deposito che nessuno ha rimosso e che nessuno ha impedito di venisse effettuato.